Cancro Prima Aiuto ed Insieme per Vincere firmano congiuntamente un nuovo capitolo della solidarietà in provincia di Sondrio con la donazione a Croce Rossa italiana di un pulmino destinato al trasporto dei malati oncologici all'ospedale di Sondrio. Nel pomeriggio di ieri presenti il prefetto Paola Spena ed il questore Angelo Giuseppe Re, oltre ai vertici di Cancro Prima Aiuto rappresentati dal presidente Plinio Vanini, l'AD Flavio Ferrari ed il vicepresidente dell'area valtellinese Oriano Mostacchi, la cerimonia di consegna del mezzo presso del centrale Grand Hotel della Posta. C'è questo grande valore dell'associazionismo del volontariato che contribuisce qui a sostenere un territorio bello ma anche complesso e con tante fragilità e quella di oggi è un'iniziativa che si iscrive perfettamente in questo quadro. Il Van, capace di poter trasportare nove pazienti, è stato intitolato alla memoria di Davide Rocca, recentemente scomparso, e fratello di Marco, membro del CDA di Cancro Primo Aiuto. Cancro Primo Aiuto io già la conoscevo dalla realtà Brianzola, comunque questo aiuto per le persone che soffrono, è anche un mezzo che li aiuta per raggiungere i posti dove devono curarsi, è un aiuto materiale, è anche un aiuto psicologico e morale. Tanti gli obiettivi in progress per la Onlus, tra questi il progetto Parrucche, capace nel solo 2018 di donare 2.256 parrucche ad altre tante donne sottoposte a trattamenti di chemioterapia nei centri ospedalieri della Lombardia. E poi la raccolta di fondi per l'acquisto di macchinari ospedalieri come ecografi ed acceleratori lineari e ancora il progetto Trasporto nel quale si inquadra l'ultima donazione effettuata con la consegna di ieri a Croce Rossa Italiana. Un'azione ulteriormente significativa in virtù delle difficoltà oggettive legate al tema trasporto lungo una territorialità montana. Per noi è veramente prezioso e importante perché i servizi di trasporto che dobbiamo fare sono veramente tanti, le richieste continuano ad aumentare e quindi il supporto di Cancro Primo Aiuto che dona questo nuovo mezzo e ci permette appunto di ampliare la nostra possibilità di servire la gente che ha bisogno è veramente importante. Noi vediamo che ogni tre o quattro anni le macchine e i mezzi che doniamo devono essere sostituiti perché fanno tantissimi chilometri per cui vuol dire che effettivamente c'è bisogno di questo. Un ringraziamento anche chiaramente alla famiglia Rocca che in nome e ricordo di Davide ha voluto contribuire presso la nostra associazione perché questo dono che facciamo oggi possa essere fatto.